Chi mi attacca evidentemente non conosce i risultati che abbiamo prodotto sul fronte delle politiche sociali, così Anna Maria Russo, assessore alle politiche sociali del Comune di Angri, replica le critiche che le sono state mosse nei giorni scorsi da Avanguardia. Pomo della discordia, la sospensione del servizio di assistenza domiciliare integrata. L'assessore fa chiarezza anche su questo. Il servizio di assistenza domiciliare integrata veniva erogato soltanto dai comuni di Angri e Castel San Giorgio dal 2010, da quando i fondi regionali non sono stati più erogati. Per cui pochi giorni fa una direttiva del piano di zona comunicava a questi due comuni, soli dell'ambito che erogavano questo servizio, di effettuare delle valutazioni all'interno degli utenti che beneficiavano del servizio ADI per verificare se questi utenti potevano far parte dell'UVI. Nel momento in cui, perché nel caso in cui gli utenti che usufruivano dell'ADI facevano parte dell'UVI, potevano essere a carico del FUA, cioè dei fondi del piano di zona e non più a carico dei singoli comuni. Per cui il comune di Angri insieme al comune di Castel San Giorgio hanno deciso di sospendere il servizio per una ragione tecnica, cioè quella di verificare quanti degli utenti attualmente in ADI potevano essere sottoposti alla valutazione UVI e passare quindi sotto il sostentamento economico del FUA, del piano di zona, per poter poi ampliare la platea di utenti all'interno del proprio territorio ad altri soggetti che pur non rientrando in UVI possono soffrire dell'ADA, dell'assistenza domiciliare anziani. Come replica chi, puntando su questa polemica, ha detto che lei è l'emblema del fallimento politico e che è esperta soltanto di gite e viaggi? In realtà chi ha detto questo penso che non si ha conoscenza di tutti i servizi erogati sul territorio oppure che non interessano i servizi che noi eroghiamo, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli. o non hanno idea di chi siano le fasce più deboli perché se rendere servizi ad anziani, a bambini e a persone bisognose non è dare aiuto alle fasce più deboli, evidentemente hanno un po' di confusione in testa da queste persone che hanno detto del fallimento della politica inglese. L'amministrazione Mauri si è sempre dedicata alle fasce più deboli e non sono le parole che lo dicono ma sono i fatti. A pensare sia dall'assistenza sociosanitaria che nel 2010 il Comune erogava per questo tipo di assistenza e la partecipazione del Comune era solo di 150.000 euro, adesso è di 380.000 euro, quindi sono i numeri che parlano.